buongiorno sono urbano della sani moreno vuoi svaghe auto di fuscecchia oggi nel nostro parco usato è rientrata questa bella fiat punto ecco qua allora alcuni particolari più precisi su questa vettura intanto vi faccio vedere delle caratteristiche della caratteristiche che come potete vedere è di questo bel grigio argento metallizzato ed è veramente veramente bella i dati di questa macchina sono è dell'anno 2007 ed è un 1.400 benzina metano quindi impianto originale fiat nasce da fiat quindi è una macchina bella economica nei consumi perché con il metano si consuma veramente prof a percorso vi farò vedere poi il contachilometri però ve lo anticipo 80 mila chilometri ed è una macchina che può essere guidata dai neopatentati una macchinetta veramente economica quindi ragazzi e ragazze neopatentate ci possono fare la loro esperienza allora vi faccio vedere anche la tappezzeria che naturalmente è stata lavata e digenizzata a vapore non ci sono strappi non ci sono buchi di sigarette anche perché il vecchio proprietario non era un fumatore quindi non ci sono queste queste cose abbiamo il suo climatizzatore i vetri elettrici ha fatto ha fatto la vettura solamente 80 mila chilometri 81 per la precisione quindi ricapitolando vettura che può essere guidata da ragazzi e ragazze neopatentati veramente economica a metano quindi i consumi sono veramente bassi quindi economici già disponibile presso il nostro punto vendita potete già venire a vederla a provarla a chiedere informazioni a questo punto io vi ringrazio per l'attenzione su questa vettura dopo di che vi dico oltre a questa abbiamo anche altre vetture usate quindi vi possiamo presentare tutto il nostro parco usato e anche vetture aziendali quindi vi possiamo servire proprio nel migliore dei modi vi ringrazio per l'attenzione vi aspettiamo e a presto